se l'è guadagnata, non che prima squalifichi dai la medaglia al quarto, la medaglia di bronzo e poi gliela vai a riprendere dalle tasche e dalle mani per darla a chi ha vinto il ricorso. Sì, oggettivamente è molto brutta la gestione di quel frangente. I primi due, due atleti americani, uno dei due Armstrong ha squalificato e poi appunto la premiazione con la squalifica ufficializzata e il ricorso per la prima volta che ha avuto un esito che ha ribaltato tutto quanto era stato deciso prima andando, come tu hai detto, a mettere le mani nelle tasche degli atleti. E in questo caso di Cechon, perdonami perché il primo e poi squalificato era Ress, Armstrong, Masiuk poi Armstrong, Masiuk e Cechon che era arrivato quarto, alla fine era inserito Ress e medaglia di bronzo tolta dalle tasche e dalle mani, scusa se lo dico, di Thomas Cechon. Ebbene sì, per fortuna, se vogliamo, una giornata molto felice per l'Italia del nuoto e per Cechon stesso, che aveva la 4% mista in cui si è presa una prontissima rivincita andando a sconfiggere, lanciando la staffetta italiana per la prima volta sul tetto del mondo proprio davanti agli statunitensi. E a proposito di staffetta, non la mista ma quella veloce, 4% stile libero maschile in chiusura di programma di questa giornata che promette di fare grandi cose vedremo, i nomi sono quelli che ci hanno portato in alto negli ultimi anni e mi riferisco a Miressi, Zazzeri, Cechon e Frigo. Adesso però c'è questo capitolo 50 d'orso, Franta, Stokowski, Lamberti, Cechon, Zelliger, Polevka, Mityukov e Marshall dall'altro al basso della vasca pronti per l'aggancio alla Divais. Vediamo la subacquea di Michele Lamberti che scatta velocissimo reazione a 0,51, a 0,61 invece Thomas Cechon che poi però ha nella parte notata eventualmente il suo cavallo di battaglia. Thomas Cechon ha partito indietro, sta cercando di recuperare e lo fa abbastanza buona fino a questo momento la linea di Michele Lamberti che ora viene superato proprio da Thomas Cechon che va più veloce di tutti e come se va più veloce di tutti Thomas Cechon a 24,65 poi Lamberti, bravo Michele, 24,82 e Stokowski a 24,98. I primi tre sono gli unici sotto la barriera dei 25 secondi. 1-2 per gli azzurri, bellissima prova nell'insieme, non sorprende, è ovvio Cechon, invece una prova da sottolineare è quella di Michele Lamberti, 24,82, tempo importante, non ha avuto alcun cedimento, non è stato perfetto in partenza come talvolta ci ha fatto vedere però ha tenuto benissimo nell'ultima parte di gara, questo gli ha permesso di rimanere a contatto con il primatista del mondo. Bravo Michele Lamberti, abbondantemente sotto sì, a quel 24,96 di Johan Doibroar che era quarto dopo la prima semifinale, entrano addirittura Stokowski e Polevka le prime quattro posizioni, ecco le qua, occupate da Christu, Cechon, Leitrovski e Braunschweig dunque due azzurri nella finale di domani dei 50 d'orso e con belle prospettive. Assolutamente, non è una gara che ci ha regalato grandi soddisfazioni nella sua storia e avere due atleti in finale è molto significativo, da un lato sono due atleti peraltro di grande classe, di grande potenzialità su Cechon, beh oramai abbiamo già detto tanto per Lamberti è il primo appuntamento in Vascala a 50 metri nel mondo dei migliori otto. I nostri azzurri bravissimi entrambi, Thomas scuoti la testa. No, 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 bravissimo, un parolone, ho fatto un po' meno di stamattina, facile abbastanza oggi, il greco è andato forte, aperta parentesi è chiusa, no, sono contento, secondo tempo, domani ovviamente ce la giochiamo, sono contento che c'è anche Michele far parte di questa finale perché insomma due italiani è meglio che uno, no? A te bravissimo posso dirlo. Sì, grazie, sono contento, ho sette centesimi dal mio personale e domani ho una corsia quindi è un'opportunità e sarà la mia prima finale europea-vasca lunga. In casa. In casa, esatto, quindi cerchiamo di prendere tutte le energie possibili da questo pubblico per cercare di fare ancora meglio. Assolutamente, congratulazioni in tanto. Grazie.